L'obiettivo è quello di far sì che i bambini possano muoversi in autonomia, ma c'è dietro un'idea di città, un'idea di città in cui tutti possano utilizzare la propria città in sicurezza, muovendosi anche tranquillamente a piedi. Quindi l'idea di una comunità anche che si prende cura, in questo caso dei più piccoli, ma anche delle persone più fragili. E così ogni mattina a Sansepolcro si mette in moto il trenino dei bambini che scelgono di andare a piedi sino alla propria scuola, attraversando il centro storico con allegria ed in piena sicurezza. Peribus a scuola ci andiamo da soli è infatti un'iniziativa del Comitato Nessun'Isola e dell'amministrazione comunale. Un progetto che consente ai bambini di andare a scuola in autonomia, al momento ancora accompagnati da volontari. L'obiettivo è che possano andare da soli e quindi ecco tutte le mattine dalle 8 alle 8 e un quarto il traffico nel centro storico nel corso è vietato per consentire proprio ai bambini di raggiungere in sicurezza le scuole. I luoghi di ritrovo sono due, Porta Romana e Porta Fiorentina. Da lì in modo ordinato e disciplinato i bimbi si incamminano verso la primaria di Amicis e la Collodi. Al momento abbiamo una settantina di bambini che sono iscritti, anche se non è un'iscrizione ancora ufficiale, ma noi teniamo tracciamento di chi viene con noi, dalle due porte, quindi 30-35 da una parte e così dall'altra, quasi tutti i giorni. E abbiamo 16 volontari adesso, attualmente sono genitori, sono nonni, anche persone che lavorano non solo in pensione, che hanno un orario più flessibile e mezz'ora la possono dedicare almeno una volta alla settimana ad accompagnare i bambini a scuola. Grazie.